buongiorno ragazzi allora siamo svegliati bene doccia fatta e ci stiamo avvicinando sono Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione